A spasso con i dinosauri, seguendo le orme nella galleria del centro commerciale mongolfiera di Iapigia, i bambini si trovano faccia a faccia con i dinosauri che non li spaventano, anzi, visto che sono pronti a mettersi in posa davanti alle temibili fauci spalancate. E anche i più piccoli sembrano conoscerli benissimo. Questo chi è? Il triceratopo. Il triceratopo? Il collosauro. Il collosauro? Ma sei sicuro? Esiste il collosauro? Sì. Ma ti piacciono i dinosauri? Sì. Ma non ti fanno paura, no? No. Qual è quello che ti piace di più? Il brottosauro. Si sono estinti 65 milioni di anni fa, ma popoleranno la galleria del centro commerciale fino al primo marzo. Ben 11 rettili preistorici. Per incontrare il più grande, il Tyrannosaurus Rex, alto 5 metri, bisogna raggiungere la Piazza della Pace, ignorando i segnali di pericolo. Ma questo è lui chi? Il T-Rex. Il T-Rex, il Tyrannosaurus, altissimo. Perché anche io c'è la casa. Così grande? No. Più piccolo. Sì, perché ce lo gioco. Ci giochi. Ed è cattivo quando giochi il Tyrannosaurus? Sì, quando facciamo la battaglia. E tu invece con chi giochi? Lui c'è il Tyrannosaurus e tu? Il Brontosaurus. Brontosaurus. E vince qualche volta il Brontosaurus? Eh, sì.